ciao sono il genio ligato benvenuti nella mia bottega oggi vi parlerò di uno dei miei progetti questo è il primo esemplare di chitarra classica costruita interamente in legni torrefatti due anni fa la solibody unica azienda nella torrefazione del legno per l'iteria in italia mi propose di costruire una chitarra in legno torrefatti io accettai che cos'è il legno torrefatto le tavole di legno vengono inserite in un forno in assenza d'aria a circa 150 220 gradi a seconda del risultato che si vuole ottenere perché torrefare il legno e soprattutto che benefici apporta il legno una volta torrefatto è più scuro più leggero e ha meno umidità interna rispetto ad un legno stagionato naturalmente durante il processo sono espostate espulse quasi la totalità delle sostanze zuccherine e resinose e i canami dollari si sono completamente chiusi il legno torrefatto non ha un ritiro futuro queste caratteristiche elencate portano solo benefici nell'iteria i risultati che ho ottenuto su questa chitarra sono stati sorprendenti lo strumento appena incordato risulta pronta al suono e al tocco tipico delle chitarre mature un altro aspetto che mi ha piacere veramente colpito risiede nella finitura io utilizzo vernice high tech passate a spruzzo che mi permettono di avere degli strati all'ordine del micron ma estremamente resistenti su strumenti costruiti con legni convenzionali per ottenere una finitura specchio devo per forza caricare più mani di vernice invece su questa chitarra è stato utilizzato alla metà del materiale per ottenere una finitura perfetta che non andrà a ritirarsi nel tempo proprio per via delle caratteristiche del legno torrefatto il legno torrefatto durante la costruzione mi ha fatto capire che deve essere trattato diversamente rispetto ai legni stagionati naturalmente essendo notevolmente più secco e leggero al tatto dà l'impressione di essere più nervoso per ottenere il massimo bisogna non eccedere con gli spessori sottili per quanto riguarda la tavola armonica e avere un po di accortezza nelle pieghiature delle fasce questa chitarra si potrà vedere e provare dal 24 al 26 settembre alla fiera di cremona mondo musica nello stand numero 643 pad 1 della solid body di michael e giorgione lì troverete un'ampia scelta di legname torrefatto e non solo ci vediamo mondo musica alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti